Siamo a Taormina, al parcheggio Lumbi, sono le ore 23.55, è appena finito il concerto di Antonella Venditti, a Ferro Greco, e qui io come altra gente stavo aspettando di pagare il ticket e uscire la propria auto dal parcheggio. In questo caso hanno bloccato le file, stavano arrivati anche alle mani due signori che hanno smesso di menastie, ora mi hanno chiamato i vigili, finalmente stavano facendo un pochino sbloccare la situazione, però come potete vedere alla cassa è tutto bloccato. La cassa è automatica, ma quindi provo, speriamo che non mi succeda un pochino.